Ma quando torno a Padova, vestito a casa mia! Il club Padova nel cuore, appena inaugurato qui nella prestigiosa Sala Rossini del Caffè Piedrocchi, ha donato la prima tessera di socio onorario a Sergio Giordani. E devo dire che mi ha fatto estremamente piacere. Primo, perché è un club in cui la titolazione del club rappresenta quello che rappresenta per me il Padova, il Padova nel cuore, e non è una frase fatta, non mi piace dirlo, però lo dico lo stesso. Indipendentemente dalla proprietà della squadra, io allo stadio ci sono sempre, ci sarò sempre, o almeno mi auguro di esserci sempre, perché per me il Padova è affetto, è ancora emozione, è sentimento. Voi non immaginate la gioia che ho vissuto l'anno scorso nel vedere la squadra ritornare tra i professionisti, per me è stata veramente una grande cosa, come è stata una cosa estremamente negativa. Ero in comune, mi ricordo ancora due anni fa, quando un tuo collega mi ha detto che il Padova non c'è più, credo fosse uno scherzo, purtroppo era vero, ma meglio dimenticare queste cose qua. Qua c'è da fare i complimenti per l'iniziativa, per la sede, spettacolare. Mai avrei pensato che un club potesse avere una sede del genere. Non è la più bella di Padova, è la più bella d'Italia, presumo, penso che ce ne siano poche altre. Che sia l'ospicio perché nascono ulteriori club, perché questo significa che la squadra va bene, perché vuol dire che i tifosi, la città è attaccata alla squadra e questo è un auspicio che meglio di così penso non si possa augurare al calcio Padova.